benvenute e benvenuti a molecole in scatola dialoghi su chimica e società a cura del dipartimento di chimica dell'università di torino in ogni puntata racconteremo un problema una necessità tecnologica o un mistero risolto dalla ricerca o su cui si sta ancora lavorando tirando fuori dalla scatola una molecola o un materiale o un oggetto per capire come funziona a cosa serve o dove lo trovate magari senza saperlo nella vita di tutti i giorni quale sarà il contenuto della scatola di oggi buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questa nuova puntata del podcast molecole in scatola io sono beatrice io sono chiara e siamo due dottorande del dipartimento di chimica che studiano nel corso di scienze chimiche e dei materiali oggi siamo qui per la prima volta per diciamo parlarvi di serie tv e film in particolare andremo a specificare chiarire dire piccoli aneddoti su serie tv e film che trattano di tematiche scientifiche in maniera il più semplice possibile come se fossi tipo al bar con amici e dici vabbè ma tu l'hai visto quel film ma di che parla facciamo due parole e di cosa parliamo oggi chiara è oggi direi puntata bomba perché tiriamo fuori dalla scatola la bomba atomica quindi il film di cui andremo a parlare è openheimer esatto che quasi tutti hanno visto beh allora io non l'ho visto lo ammetto perché ero un po spaventata della tempistica del film però giuro prometto che lo rivedrò necessario esatto e infatti oggi rappresento il 2 per cento della popolazione che non ha ancora visto il film e quindi allora se non volete spoiler direi che questa parte di podcast la possiamo anche saltare però io andrei diciamo a capire un po' di chi stiamo parlando c'è capire un po' chi è so openheimer julius robert openheimer nasce a new york nel 1904 da famiglia di ebrei famiglia benestante che gli permette di avere un background culturale molto ampio anche possibilità di viaggiare per di più possiamo pensare openheimer un po' come shadow cooper cioè ragazzo prodigio che comincia l'università prestissimo e udite udite prende il dottorato a 23 anni cioè questo veramente un colpo all'autostima passese ok inizia gli studi come tanti studenti non cogli subito la sua strada perché si iscrive a chimica e capisce che non è proprio il suo perché diciamo che era uno studio troppo pratico lui si sentiva molto più teorico e quindi cosa succede parte per l'europa gira un po l'europa e prova diciamo di università diverse passa un periodo un po grigio perché allora dobbiamo pensare openheimer come un personaggio un po' se vogliamo non troppo non troppo stabile soffriva di tante turbe provava molta rabbia dentro di sé perché appunto non riusciva a capire quale fosse veramente la sua strada non riusciva a trovare un luogo che potesse dargli della sicurezza e infatti primo primo aneddoto della giornata lui cerca di avvelenare il suo professore con una mela certo la questione poi viene a galla però essendo di famiglia benestante non viene messo dietro alle sbarre ma deve solamente andare a fare delle salute da uno psicologo e detto questo finalmente trova il suo a goettingen nell'università appunto di goettingen in germania e qui udite udite conosce niente po po di meno che heisenberg e diventano best cioè loro sono veramente inseparabili e però pensando un po anche al contesto storico in cui vive openheimer dove vediamo tra gli eventi diciamo più importanti nel 29 la caduta della borsa di wall street l'inizio della seconda guerra mondiale appunto nel momento in cui lui è in germania iniziano le persecuzioni dei nazisti contro gli ebrei e quindi è obbligato a fuggire dalla germania qui perde completamente i contatti con heisenberg e anzi diventano pure nemici perché uno heisenberg cercherà di costruire la bomba atomica per i nazisti e l'altro per gli usa una volta che in america qua abbiamo il secondo aneddoto della giornata uno dei suoi collaboratori il dottor luiz alvarez mentre era a farsi capelli legge un articolo dove viene riportato che due scienziati tedeschi sono riusciti a dividere l'atomo e questa è una notizia pazzesca cioè alvarez non capisce più nulla corre da openheimer gli dice la notizia openheimer incredulo dice no ascolta proviamo a rifare l'esperimento perché qua gatta cicova fanno l'esperimento funziona e openheimer che un po' problematico era ma stupido no dice cavolo qui nazisti stanno cercando di costruire una bomba atomica scriviamo subito a roosevelt che era il presidente americano di quel tempo diciamo openheimer contatta anche tutti gli altri scienziati dell'epoca tra i quali i nomi importantissimi a einstein per esempio scrivono una lettera roosevelt roosevelt inizia a impaurirsi e dice cavolo qui devo fare qualcosa allora nel 1942 fonda il progetto manattan il progetto manattan viene diciamo creato per appunto per favorire un armamento molto efficace per gli usa e gli alleati perché come sappiamo in quel periodo appunto era in pieno la seconda guerra mondiale e a capo del progetto manattan c'è il generale leslie groove che decide di mettere a capo del dipartimento scientifico niente po po di meno che il nostro openheimer ma bea openheimer a livello scientifico era la persona giusta allora diciamo che questo crea un po' di quindi non è che suonava troppo per di più non era mai stato a capo di un progetto così grande era un teorico e non un uno sperimentale e dacci l'ultima chicca e poi non aveva un premio nobel c'è ma di cosa stiamo parlando può uno senza premio nobel essere a capo di un progetto tanto grande se non hai premio nobel non sei nessuno comunque il generale in realtà mette lui perché è super carismatico cioè vede proprio che ha la natura del leader e infatti non lo delude perché il 16 luglio del 45 avviene il test trinity alle 5 del mattino viene sganciata la prima bomba atomica e succede un disastro cioè l'onda d'urto viene percepita fino a 160 chilometri di distanza cioè pazzesco però terzo aneddoto openheimer prima di lanciare la bomba chiara aveva un timore ovvero il fatto di far incendiare l'atmosfera e beh qui qui possiamo chiederci perché aveva questo avesse questo timore io me lo sto chiedendo infatti è possibile che lui avesse questo timore perché il calore generato dalla bomba atomica quindi milioni di gradi potesse andare a creare la fusione dell'idrogeno e quindi terra is the new sun praticamente sì comunque spoiler la cosa non succede perché altrimenti non saremmo qui però se io penso alla bomba atomica mi viene in mente quella quell'enorme nube a forma di fungo che si forma una volta che la bomba esplode ma com'è possibile? esatto questa è diciamo la forma particolare tipica della bomba atomica e viene creata perché nel momento in cui appunto la bomba esplode i milioni di gradi che vengono generati vanno a ionizzare il gas quindi primo step la luce la luce generata dalla ionizzazione del gas dopodiché i gas vengono appunto scaldati e come sappiamo il calore sale verso l'alto e non solo i gas anche le particelle del terreno che vengono raccolte salgono verso l'alto creando il gambo del fungo e una volta raggiunte elevate altitudine iniziano a raffreddarsi e quindi cadono ricadono verso verso la terra fondamentalmente con moto turbo lento e quindi vanno a creare il cappello del fungo wow pazzesco esatto ma allora una cosa che mi hanno detto è che nel film non si capisce proprio bene come funziona una bomba atomica tu mi sai aiutare? allora proviamo a snocciolare e rendere il più semplice possibile questo step parliamo di chimica e fisica nucleare quindi concentriamoci sul nucleo dell'atomo sappiamo che possiamo immaginarcelo come una sfera contenente protoni quindi particelle cariche positive e neutroni fin tanto che gli atomi sono piccoli non ci sono grossi problemi perché la repulsione tra le cariche positive è ben bilanciata man mano che andiamo ad avere elementi sempre più pesanti quindi sempre con un numero sempre maggiore di protoni queste cariche iniziano a non stare più tanto bene insieme e nel momento in cui noi per esempio andiamo a sparare un neutrone contro quest'atomo noi andiamo a perturbarlo incredibilmente creando una sorta di goccia quindi dalla sfera passiamo alla goccia e qui può avvenire la fissione quindi andiamo a separare il nucleo quindi partiamo da un padre un elemento pesante andiamo a generare uno o più elementi figli che hanno una massa più piccola e non solo andiamo a creare un'energia enorme e altri neutroni e questo è importante Bea perché nella bomba atomica noi vogliamo che questa reazione sia autoalimenti quindi questi neutroni andranno a sbattere contro altri elementi fissili e genereranno altri neutroni e altra energia ok però una domanda tu mi parli di elemento fissile cosa vuol dire quali sono i requisiti allora dobbiamo avere un elemento con numero atomico elevato e numero di protoni tendenzialmente dispari e tra i più conosciuti abbiamo l'uranio 235 e il plutonio 239 che sono quelli che verranno poi utilizzati nelle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki esatto perché come ben sappiamo dopo il test Trinity neanche un mesetto dopo rispettivamente il 6 e il 9 di agosto vengono sganciate su Hiroshima e Nagasaki le due bombe atomiche americane che si chiamano nomi molto carini Little Boy e Fat Man però qual è la differenza tra queste due bombe perché sappiamo che gli effetti soprattutto di morte e distruzione sono diversi nelle due casistiche esatto infatti su Hiroshima con Little Boy contrariamente a quanto si pensa la bomba era molto più grande proprio fisicamente con 64 kg di uranio all'interno ma fece molti meno danni rispetto a quella di Nagasaki che conteneva solo 6 kg di plutonio quindi abbiamo uranio da una parte e plutonio dall'altro ma la grossa differenza sta nell'ingegneristica della bomba perché quella di Hiroshima contenente uranio appunto era basata su un sistema a blocchi separati o a proiettile quindi aveva un pezzo di uranio più piccolo che veniva sparato contro un pezzo di uranio più grande e da qui partiva la reazione nucleare ok importantissimo beh una cosa che non vogliamo è far partire la reazione quando stiamo trasportando la bomba quando la stiamo costruendo vogliamo che ci parta il sedile esatto mettiamola così quindi è necessario avere una quantità di uranio o plutonio fissile che sia sotto la massa critica quindi concentrazione inferiore a dar vita alla reazione a catena ok quindi nel caso di Hiroshima questi due pezzi di uranio erano separati e siamo in condizioni subcritiche nel momento in cui il proiettile di uranio va a colpire il bersaglio andiamo a generare direttamente la produzione del neutrone e della reazione nucleare e quindi la bomba va a scoppiare con questi 64 kg di uranio in realtà questa bomba è estremamente poco efficiente perché solo l'1,5% di uranio viene separato e quindi dà vita all'energia dell'esplosione generando circa tra gli 8 e i 13 kilotoni di potenza ok dall'altra parte su Nagasaki abbiamo un sistema implosione quindi abbiamo una sfera di plutonio cava all'interno all'interno è posta una scatoletta di beriglio 9 con del polonio 209 che sono i generatori dei neutroni iniziali vengono poste delle cariche esplosive all'esterno di questa sfera di plutonio nel momento in cui esplodono il plutonio subisce implosione quindi va a concentrarsi e qui arriviamo alla condizione di massa supercritica il beriglio fa partire i neutroni preazione nucleare esplosione esatto in questo caso l'efficienza di 6 kg di plutonio quindi 10 volte meno rispetto al caso di Hiroshima causa, cioè produce un'efficienza del 25% quindi nettamente superiore esatto una potenza di ben 25 kilotoni wow pazzesco infatti Oppenheimer diciamo che lui aveva capito che aveva consegnato nelle mani sbagliate un potere gigantesco e infatti cosa succede? dopo che gli sono stati conferiti delle riconoscenze diventato il padre della bomba atomica lui diventa pacifista e si lava le mani diciamo tra virgolette e lo stato americano tra l'altro non è molto positivo rispetto a questa scelta di Oppenheimer e infatti gli dice guarda tu ci hai dato tutto quello che ci dovevi dare stai pure dove sei io continuo per la mia strada infatti poi Oppenheimer muore nel 1969 per un cancro alla gola senza premio Nobel non ce l'ha fatta quindi grazie per essere stati con noi speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e che sia stato tutto il più terra terra possibile se volete nel link in descrizione sotto il video potete trovare un approfondimento che riporta il documento ufficiale del test Trinity che è stato rilasciato non da troppo tempo e per questo devo ringraziare un mio collega che si chiama Stefano che me l'ha passato via mail grazie a tutti e ci sentiamo nella prossima puntata a presto ciao 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 Molecole in scatola è realizzato dalla commissione Public Engagement del Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino Dipartimento di Eccellenza 2023-2027 da Un'idea di Francesca Turco musico originale di Filippo Turci si ringraziano Paolo Mazzà ed il team ICT per l'assistenza tecnica e Shiva Salepur per il montaggio le puntate sono disponibili sul canale YouTube del Dipartimento sulla piattaforma Podcast Spreaker e su Spotify grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti